Musica Si gioca allo stadio di Sant'Antonio Abate per l'indisponibilità dell'impianto di Castellamare di Stabia allo stadio Romeo Menti per i lavori di rifacimento del manto erboso amichevole di lusso tra la Juve Stabia allenata dal duo Caserta Ferrara contro la primavera di Mister Saurini Juve Stabia in campo con Branduani, Dentice, Crialese, Calò, Morero, Allievi, Lisi, Matute, Costantini, Mastalli e Strefezza a disposizione del duo Caserta Ferrara, Zanotti, Nava, Gaie, Capece, Redolfi, Bacchini, Canotto, Zarcone, Simeri, Viola, Bacci e Daudia per il Napoli in campo Scheper, Schiavi, Scarf, Basit, Manzi, Meresatte, Pelliccia, Micillo, Palmieri, Otranto e Mezzoni a disposizione di Mister Saurini, D'Andrea, Bartiromo, Pizza, Calvano, Coglitore, Catavere, D'Alessandro, Conte, Pirone ed Energe calcio d'inizio per la Juve Stabia, l'arbitro del signor Francesco Carrione, assistenti di linea Alessandro Duocco e Paolo Cipolletta terzo minuto di gioco, bella apertura per il brasiliano Strefezza che aggancia, punta l'area di rigore, salta un avversario tocco dietro per la corrente Calò, la conclusione viene deviata in calcio d'angolo sugli sviluppi del tiro dalla bandierina si fa trovare pronto in piena area di rigore Moreno la conclusione però di testa è debolo quinto minuto è il Napoli che prova a rendersi pericoloso, la conclusione viene però respinta con i pugni da Branduani Napoli che prosegue con pressing alto nella tre quarti, perde palla la Juve Stabia allora è Palmieri che aggancia, salta tre avversari in azione personale però poi viene fermato al momento della conclusione ventesimo minuto sul cronometro e dalla destra che Lisi lascia partire il traversone al centro spazza male la difesa, la palla si impenna, arriva ancora Calò, conclusione al volo, palla deviata in corde terzo calcio d'angolo consecutivo per la Juve Stabia, questa volta dalla destra il traversone al centro esce Scheper che fa correre un brivido ai suoi ancora Juve Stabia e Crialese in possesso della sfera sull'automancino, il tocco all'indietro poi l'apertura, subito a cercare Matute, controllo, destro, para Scheper in tuffo minuto 42, forse l'episodio più importante dell'intero match è Crialese che va al traversone Matute di testa prova a piazzarla, il pallone sfiora la traversa e si spegne sul fondo comincia il secondo tempo, palla al Napoli girandola, di cambi all'intervallo la Juve Stabia sostituisce l'intera formazione fatta eccezione di strefezza un solo cambio invece per la formazione di Saurini la Juve Stabia si rende pericolosa, palla per Simeri, tocco all'indietro per Viola la conclusione esce di poco a lato calcio di punizione per le Vespe, sul pallone Viola la conclusione respinta dalla barriera ci prova Capece, palla fuori parte dalla difesa l'azione offensiva della Juve Stabia palla dentro a cercare Nava a tu per tu col portiere Cincischia la conclusione esce di poco a lato ultimi minuti di gioco, Viola al centro Bacchini di testa colpisce, palla alta sopra la traversa finisce così 0-0 l'amichevole di lusso di questa mattina Sant'Antonio Abate tra la Juve Stabia e la Primavera del Napoli allenata da Saurini Grandi giochi per piccoli giocatori dove? Da Fantasie di Antonio Procida dove assortimento e qualità non hanno uguali Bambini, prima di scegliere venite da Fantasie la casa dei balocchi più bella che ci sia tutto quello che desiderate ma proprio tutto e altro ancora Fantasie e giocattoli lo trovate in via Tavernola 152 a Castellamare di Stabia Grazie a tutti